Mi avete chiesto di costruire una farm di lana di pecora su Minecraft ed oggi costruiremo una farm di lana di pecora Ora la sigla del canale e ti saluti a fine video Ciao sono Marco Vigelini e se questo è il primo video che segui sul mio canale Allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina In questo modo non perderai i miei prossimi video Perfetto questa è la farm di lana di pecore che andremo a costruire oggi Per comodità conviene farla a livello del terreno Allora andiamo ad aprire la cassa e vediamo quali blocchi ci servono Ci servono due casse, sette blocchi di vetro, due tramogge, un distributore, pietra rossa, pietra Una cassa particolare, poi vi faccio vedere come riempirla Un osservatore, un binario, un vagonetto con tramoggia e poi del grano Allora andiamoci a prendere gli elementi necessari per l'inizio per questa farm di lana di pecore Allora due casse, il vetro lo saltiamo, prendiamo una tramoggia soltanto Poi sicuramente l'osservatore, il binario e il vagonetto con tramoggia Allora questa penso che sia la parte più difficoltosa Cioè individuare una zona adatta Individuata questa zona al livello più basso possibile Conto uno, due, al terzo io faccio un buco, mi metto dall'altro lato Con l'osservatore in mano lo posiziono a terra in modo tale che la faccia sia rivolta di qua Quindi la freccia è verso quella posizione Poi mi dirigo vicino l'osservatore e scavo in profondità tre blocchi Quindi uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Uno, due, tre Poi di nuovo uno, due Uno, due Mi sto facendo un po' di spazio Ok? Posso distruggere anche questo blocco Questo non lo distruggo, distruggo anche questo A questo punto, a questa altezza qui di fronte Mettiamo le nostre due casse Una, due Tramoggia in mano Vado da questa parte, ecco perché ci siamo fatti lo spazio Puntando questa cassa Mi accuccio e metto la tramoggia in modo tale da puntare Vediamo se riesco a farmi un po' di spazio Da puntare verso la cassa A questo punto possiamo anche lasciare così Binario Dov'è, dove, dove Vagonetto con tramoggia Poi chiudo un po' il tutto Ok? Così Distruggo il vagonetto Il, diciamo, il blocco che sosteneva il vagonetto Questo cade E a questo punto posso prendere Il blocco d'erba Rimetterlo di fronte all'osservatore E proseguire Preoccupiamoci della meccanica Quindi prendiamo distributore Pietra e pietra rossa Esattamente sopra l'osservatore Io mi accuccio Posiziono il nostro distributore Alle sue spalle Alle spalle dell'osservatore Qui in basso Metto la pietra Potevo lasciare l'erba Ma metto poi la pietra rossa E rimane in evidenza Consiglio, insomma, vi accorgete Di questo polvere di pietra rossa Quando l'osservatore noterà Dei cambiamenti di stato Di questo blocco Cioè la pecora mangerà L'erba Scatenerà Un evento La pietra rossa Riporta questo evento Anche sul distributore Continuiamo Ok, la pecora ci osserva Pronta per essere tosata Quindi Andiamo a costruire il meccanismo Per alimentare Il nostro distributore Allora ho preso Una tramoggia Mi accuccio E la posiziono esattamente Sopra il distributore Sopra la tramoggia Mettiamo questa gassa Vediamo se ci riesco Senza Ok In questa gassa Ovviamente Ho già messo Diverse cesoie La gassa era questa Ok Io l'ho presa Ho messo già le cesoie all'interno E sono andate Tutte nel nostro distributore Non appena Verranno consumate E distrutte Ovviamente La gassa Provederà A farla scendere Sulla tramoggia E continuare ad alimentare Questo meccanismo Ora la parte più divertente Prendiamo il rimanente Vetro E il grano Allora Dobbiamo costruire Una recinzione Intorno a questo blocco Di erba E qui ovviamente Dobbiamo riempire Comunque Il blocco Poi Due blocchi di vetro Il settimo blocco di vetro Ci serve per poter far Arrampicare La pecora Allora Era qui Fino a poco fa E adesso Se ne andate in giro Allora Con Un bel po' Di grano In mano Ci facciamo seguire Dalla pecora Io sto andando alle spalle Ma Credo di andare Si sta impazzendo Vieni Forza Sì Dai Allora E potete farlo anche In sopravvivenza Ovviamente questo Anzi Si fa sicuramente In sopravvivenza La pecora Dovrebbe salire Ok Ok Così 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 A un certo punto Ovviamente In sopravvivenza Vi fate il vostro meccanismo La incominciate a spingere Piano piano In modo tale Da farla andare Piano Piano Dentro Quella Buga Dai che ci siamo Dai che ci siamo Dai che ci siamo Forza 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 No Si andate di qua Dai 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 E' più facile del previsto Ecco Fatto Ok Fatto questo Ovviamente La pecora Incomincia A brugare Il tutto Io adesso Provo a Tenere Il video In registrazione In modo tale Da verificare Che la pecora Mangi E che il meccanismo Poi in effetti Funzioni E ve lo mostro Adesso Vediamo Se la pecora Ha fame E se Il meccanismo Funziona Mi fermo In questa posizione Ed osservo La pecora Sta mangiando Non ha mangiato L'erba Del tutto Ok Perfetto Il meccanismo Ha funzionato Allora Vediamo un po' Che cosa c'è All'interno Della cassa Ci sono già 8 blocchi Di lana Di pecora Il meccanismo Funziona Fammi sapere Dove Lo costruisci Scrivimi nei commenti Se e dove Intendi Costruire Questa farm Di lana Di pecore Su minecraft Intanto saluto Stefano Daniele Davide Che mi hanno chiesto Di essere salutati E lo sto facendo In questo momento Se non sei iscritto Al canale Fallo adesso Cliccando sulla Campanellina Ed attivando Tutte le notifiche Poi fai scrivere Anche i tuoi amici Basta cercare Su youtube A scuola Con minecraft Adesso Metti mi piace Al video E non ti dimenticare Di commentarlo Io ti saluto Per questo video Ma se ti interessa A costruire Altre soluzioni Interessanti Su minecraft Allora dai Un'occhiata Ai video Che ti suggerisco E così Possiamo Continuare A scoprire Delle nuove cose Insieme Su minecraft Perfetto Clicca ora Sui video Suggeriti A scoprire A scoprire Grazie a tutti